Ciao a tutti i maledettissimi del zio vostro e bentornati sul mio canale didattico Diego ti spiego come la sezione della matematica. In questo video studieremo ancora gli integrali definiti e li utilizzeremo per calcolare l'area formata tra due curve. Anche in questo caso per affrontare questa lezione devi saper calcolare gli integrali e devi saper fare il disegno delle funzioni elementari, come quello precedente. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo immediatamente oppure seguimi su Instagram. Vediamo se capisci qualcosa, va? Cominciamo con questo nuovo video dedicato ancora al calcolo delle aree. In particolare in questo secondo video vedremo come calcolare l'area compresa tra due curve. Supponiamo quindi di avere due funzioni fdx e gdx e che il testo ci chieda di calcolare l'area compresa tra quelle due curve. Ovviamente l'area compresa tra quelle due curve è l'area in un intervallo AB in cui A e B sono le x dei punti di intersezione. Questi punti possono esserci forniti oppure fanno parte della risoluzione del problema, cioè o ci vengono dati oppure dobbiamo semplicemente trovarli facendo il sistema tra la funzione fdx e gdx. Come facciamo a calcolare l'area tra queste due funzioni? Utilizzeremo sempre il nostro integrale ed in particolare faremo l'integrale tra A e B della funzione fdx meno la funzione gdx. Perché ho fatto fdx meno gdx e non gdx meno fdx? Perché si fa la funzione che sta sopra meno la funzione che sta sotto. Proviamo a ragionare sul perché di questa formula che è semplicissima. Abbiamo visto nel precedente video che quando calcoliamo l'area che la funzione forma con l'asse delle x, facendo l'integrale tra A e B di f di x, per esempio, andiamo a trovare tutta quest'area qua, compresa tra A e B. Ovviamente se facciamo la stessa cosa per gdx, l'area che andiamo a trovare con l'asse delle x è invece quest'altra qui. E vedete, se noi le sottraiamo quelle due aree, quello che rimane è proprio l'area in verde. Tuttavia, invece di fare l'integrale tra A e B di f di x meno l'integrale tra A e B di gdx, io faccio un integrale soltanto dove metto fdx meno gdx. La domanda che mi dovete fare adesso è questa. Che succede se l'area sta tutta sotto o tutta sopra? Cioè, che succede, per esempio, se io ho questi due casi? Quindi l'area è ancora formata tra fdx e gdx, ma nel primo caso si trova tutta sotto, nel secondo caso si trova un po' sopra e un po' sotto. Ebbene, ragazzi, può sembrare che cambi qualcosa. In realtà non cambia assolutamente niente. Si calcola ancora come integrale tra E e B di f di x meno gdx. Ovviamente devo porre attenzione a quale è la funzione che sta sopra e quale è la funzione che sta sotto, soprattutto nel caso in cui l'area sia tutta sotto. In questo caso, infatti, la funzione che sta sopra è ancora f di x, perché guardando dall'alto è la prima che vedo, quella che sta sotto è gdx, perché è la seconda che vedo se guardo dall'alto. Molto, molto semplice. Quindi non cambia assolutamente niente in nessuno dei tre casi. Andiamo a vedere qualche esercizio, subito, subito. In questo primo esercizio abbastanza semplice ci viene dato praticamente tutto delle due funzioni, quindi ci viene dato il disegno, ci viene dato l'espressione analitica e ci vengono dati anche i punti di intersezione. Ci viene chiesto di calcolare l'area formata tra le due curve. L'area formata tra le due curve sarà, per l'appunto, quella formata tra la parabola di equazione meno x4 più 4 e la retta di equazione 2x più 4. In questo esercizio non dobbiamo spenderci troppo nemmeno per trovare gli estremi di integrazione, perché, vedete, sono proprio i punti di intersezione sulle x, mi raccomando. Quindi, ovviamente, uno sarà meno 2 e l'altro sarà 0. Loro si incontrano in 0,4, quindi non mettete 4 quando andate a mettere l'estremo integrazione, ma dovete mettere la x del punto di intersezione. Come possiamo impostare, quindi, il nostro integrale? È davvero abbastanza semplice, quindi l'area che dobbiamo andare a calcolare sarà l'integrale tra che cosa? Lo abbiamo appena detto, tra meno 2 e 0, e la funzione che sta sopra meno la funzione che sta sotto in quell'intervallo. Ora, vedete, se tra meno 2 e 0 io guardo da sopra, vedo prima la parabola e poi la retta. Quindi cosa dovrò scrivere? meno x alla seconda più 4, meno, apro la parentesi e scrivo l'equazione della nostra retta, che sarà 2x più 4 in dx. Ora, ragazzi, cosa faccio? Me lo vado ad aggiustare un secondo di calcoli, ma non ci spendo neanche troppo, quindi vedete che viene meno x alla seconda, più 4 e meno 4 se ne vanno, quindi fa 0, e mi viene meno 2x in dx. A questo punto mi vado a calcolare l'integrale. l'integrale di x alla seconda sarà x alla terza fratto 3, meno 2x alla seconda fratto 2. Semplifico il 2 col 2 e adesso me lo vado a calcolare tra meno 2 e 0. Vi ricordo come si fa? Si calcola prima nell'estremo superiore, che è 0, che mi dà 0 più 0, meno, apro la parentesi e ci vado a mettere meno 2. Quando vado a mettere meno 2 viene meno 8, fratto 3 col meno davanti, 8 terzi, e poi mi verrebbe 4 con meno davanti, meno 4. Quindi alla fine di tutto vedete che ottengo meno 8 terzi più 4, che fa un dignitosissimo 4 terzi. Che cos'è questo 4 terzi? È nient'altro che il valore dell'aria compresa tra le due curve, quindi quella in verde. Facile, facile, ragazzi. Vediamo un altro esercizio in cui dobbiamo fare noi il disegno delle funzioni e andare a trovare gli estremi di integrazione A e B. In questo secondo esercizio dobbiamo andare a fare praticamente tutto. Dobbiamo andare a fare il disegno delle funzioni, dobbiamo andare a calcolare gli estremi di integrazione e poi calcolarci l'integrale per calcolare l'aria compresa tra le due curve. Quindi vedete che questi esercizi sono ancora intimamente legati al saper disegnare le funzioni, almeno quelle di base. Abbiamo visto nel precedente video come si disegnano le parabole, e questa qui è una parabola alla seconda, perché c'è x alla seconda. Questa funzione qua, se non vi ricordate cos'è, ricordatevi che quando c'è la x al denominatore di primo grado e sopra c'è un numero o una x di primo grado, è un iperbole. Se vi ricordate questa cosa, il disegno diventa molto molto più facile, altrimenti vi dovete andare a mettere a fare lo studio di funzione per andare poi a disegnare una funzione che invece dovrebbe essere nel vostro background. Detto questo, però, procediamo per passi. Quindi la prima cosa da fare è andare a fare il disegno. E cominciamo proprio dalla nostra iperbole, 4 su x. Se vi ricordate che è un iperbole, qui quello che dovete fare banalmente è andare a fare una semplice tabellina di valori. Vi scegliete dei valori per la x e andate a fare il disegno calcolando le y. Ovviamente non scegliete come x è 0, perché altrimenti avete 4 su 0. Quindi fatevi furbi, prendete 1 e avete 4, poi prendete 2 e avete 2, e poi prendete 4 e avete 1. Se vi ricordate bene, l'iperbole aveva un ramo da una parte e un ramo simmetrico dall'altra parte, no? Quindi dovremmo prendere delle x anche negative, però facciamo il disegno con le x positive e poi eventualmente lo disegniamo simmetrico nell'altro quadrante. Andiamo quindi a piazzare i nostri punti e disegniamo la nostra iperbole, grosso modo così. Ci sarebbe da disegnarla anche nel terzo quadrante. Noi che cosa facciamo? Prendiamo i punti speculari e ci andiamo a fare il disegno. Ecco qua, questa sarebbe l'iperbole dall'altra parte. Noi però adesso scopriremo che non ci serve in realtà, perché le due curve si incontrano nel primo quadrante, quindi questa parte qua non è interessante. Andiamo invece a disegnare la parabola. Allora, questa parabola, se io la vedo come un quadrato di binomio, x meno 3 alla seconda, è molto facile da disegnare. Se non me la ricordo, come abbiamo visto nel precedente video, devo andare a calcolare la x del vertice, la y del vertice e poi prendere dei punti a caso. Perché è facile se io mi ricordo, osservo, che questa si può scrivere come x meno 3 al quadrato? Perché il punto 3 sarà proprio il nostro vertice, cioè il punto che rende 0 questa quantità è il vertice. Infatti, quando la parabola rappresenta un quadrato perfetto, vuol dire che è tangente all'asse x. Quindi che vuol dire sostanzialmente? Che lei ha il vertice nel punto 3, 0, ha questo asse di simmetria, e poi, ovviamente, se voglio, posso andare a fare una tabellina di valori e andarmi a vedere quanto viene. Prendiamo dei punti a caso. Allora, per esempio, prendiamo 1 per la x. Vedete che viene 1 meno 3 fa meno 2, al quadrato fa 4. Prendiamo poi il punto 4. 4 meno 3 fa 1, 1 al quadrato 1. E andiamo a fare il disegno, no? Perché io ho 1, 4, che sarebbe questo qua. Che guardate, è lo stesso punto che abbiamo sull'iverbole. Poi vado a prendere anche il simmetrico da quest'altra parte. Quindi ogni punto che vado a calcolare per la mia parabola, in realtà, sono 2 perché prendo anche i simmetrici. Poi abbiamo il punto 4, 1. Oh, wow, anche questo è sull'iverbole. Fantastico, no? Prendo anche questo qua e ho disegnato la mia parabola, sostanzialmente, no? Ecco qua, più o meno. Adesso, ragazzi, perché ho detto wow quando ho trovato dei punti che appartengono anche all'iverbole? E come faccio a dire che appartengono anche all'iverbole? Beh, guardate, quando ho scelto delle x di un certo tipo, mi sono venute delle y, che sono tali e quali. Cioè, quando per la parabola ho scelto x uguale 1, mi viene y uguale 4. E quando ho scelto 4, mi viene 1. Che sono gli stessi punti che stanno anche qua, vedete? 1, 4 e 4, 1. E questo vuol dire che quei due punti appartengono a tutte e due le funzioni. E quindi ho trovato già i punti di intersezione tra le due parabole. O meglio, le x dei punti di intersezione tra le due parabole, che saranno 1 e 4. E che cosa sono quell'1 e 4, ragazzi? Ebbè, sono proprio A e B. Cioè, gli estremi di integrazione dell'integrale che devo impostare per andare a calcolare l'aria compresa tra le due curve. Adesso risolviamo l'integrale e calcoliamo l'aria e poi vi faccio vedere come avreste dovuto fare in alternativa per trovare questi punti di intersezione se non è evidente dalla tabellina, cioè se non riuscite a trovarli scegliendo dei valori a caso. L'integrale che dovete impostare anche in questo caso è molto molto facile perché vi basta fare l'integrale tra 1 e 4 della funzione che sta sopra. Guardando sopra, che cosa vedete prima? L'iperbole. Quindi 4 fratto x meno la nostra parabola, x alla seconda, meno 6x più 9 in dx. Qui non ci sono molti calcoli da fare perché purtroppo avete x al denominatore 4 su x, quindi non potete semplificare nulla. Quindi non rimane che andare a fare l'integrale della somma. Cioè, mi faccio l'integrale di ogni singolo termine che abbiamo là e poi mi vado a calcolare tra 1 e 4. Quindi cosa abbiamo? L'integrale di 4 su x sarà ovviamente 4 ln di modulo di x, mi raccomando. Poi meno x alla terza fratto 3, che è l'integrale di x alla seconda, più 6x alla seconda fratto 2 e poi meno 9x. Ovviamente il tutto calcolato tra 1 e 4. A questo punto, ragazzi, il lavoro di coltello. Quindi cosa scrivo? 4 ln di 4, modulo di 4 ovviamente fa 4, meno 64 terzi più 48 meno 36. E mi sono calcolato quei valori nel punto 4. meno, apro la parentesi, 4 ln di 1, che ovviamente farà 0, quindi lo possiamo già togliere perché il logaritmo di 1 fa 0, meno un terzo più 3 meno 9. Fate quindi tutti i conti, ragazzi, adesso non vi tedio, non vi annoio facendo i calcoli, e ottenete 4 ln di 4 meno 3. ln di 4 lo potete scrivere anche 2 ln di 2, quindi 8 ln di 2 meno 3. Questo ultimo passaggio non è assolutamente fondamentale, potete lasciare anche 4 ln di 4 meno 3. Ecco fatto, ragazzi, davvero, davvero facilissimo. Questo qui che abbiamo trovato non è nient'altro che l'aria formata tra le due curve che vi ho proposto. Concludiamo con una piccola osservazione. Vi avevo promesso poco fa che vi avrei spiegato come trovare i punti di intersezione quando io non ce li ho evidenti dalle tabelline. Beh, è davvero, davvero semplice, insomma, non ve lo devo neanche spiegare. Mettete a sistema le due curve, y uguale 4 su x e x alla seconda meno 6x più 9, e semplicemente risolvete il sistema. Purtroppo per voi questo sistema qui vi dà una cosa che non vi piace tanto, perché eguagliare queste due curve significa avere a che fare con una equazione di terzo grado, perché se fate il minimo con il multiplo che è x, ottenete questa equazione qua. Quella lì è un'equazione di terzo grado che non è un cubo di binomio, non può essere scomposto con il raccoglimento parziale. Lì l'unica cosa che dovete fare è ruffini, ragazzi, ruffini, che non vi piace, però lo dovete sapere perché all'esame di maturità capita. Siete però fortunati perché quel polinomio diventa 0 già quando andate a mettere 1, perché ottenete 1, meno 6, più 9, meno 4, 10 meno 10 fa proprio 0. Quindi cosa dovete fare? Andate a prendere i coefficienti di quel polinomio e ci andate a mettere qua 1, quindi ottenete 1, 1, meno 5, meno 5, 4, 4 e 0. Il che vuol dire che questo polinomio si scompone in x meno 1 per x alla seconda meno 5x più 4 uguale a 0. A questo punto andate a scomporre il polinomio di secondo grado o con la formula risolutiva o col trinomio speciale e ottenete che quello si scompone per x meno 1 e x meno 4. Cioè le soluzioni sono 1 e 4, ovvero quella roba si scrive x meno 1 al quadrato per x meno 4. Bene? Quindi tutto questo che cosa vuol dire? Che quando ponete questo uguale a 0 avete come soluzione proprio 1 e 4. Che cosa sono? 1 e 4 le intersezioni tra quelle due curve che saranno i nostri estremi di integrazione A e B. Chiaramente vedete ragazzi questo procedimento soprattutto se non vi ricordate Ruffini è un pochino lungo, quindi se riuscite a trovare i punti di intersezione con le tabelline è decisamente più facile, ma questo non è sempre possibile, soprattutto se questi due valori non sono dei numeri interi ma sono delle frazioni o ancora peggio delle radici o dei numeri con logaritmo. Quindi necessariamente a volte, spesso direi, dovete saper risolvere il sistema. In questo caso abbiamo utilizzato Ruffini ma non sempre è così, anzi molto spesso il sistema si risolve molto più facilmente. Bene ragazzi anche con questo video abbiamo concluso, non perdetemi i prossimi video perché continueremo a vedere come calcolare le aree quando abbiamo a che fare con più di una funzione. Grazie per avermi seguito anche oggi, alla prossima! Grazie per aver guardato il video!